cade per la prima volta in questo campionato il comunale di sferracavallo per mano di una merina letteralmente rigenerata dalla cura marco moretti dopo ore di intense precipitazioni si gioca ai limiti della praticabilità con un clima polare ed una tramontana che spazza in verticale il terreno di gioco lo spettacolo per forza ne risente anche se va dato atto ai 22 di disputare un incontro gagliardo adeguato alle situazioni ambientali oltre al nuovo completo con ritorno ai colori rosso blu il mosconi mostra anche il nuovo tecnico danilo porcari il sostituto di sandro tonelli non stravolge l'assetto tattico della squadra privo di due pedine fondamentali in difesa come capitan stella e de bardi il neo allenatore propone modulo 4 3 1 2 rispolverando bonino autore di un ottimo incontro al fianco di un troili non al meglio e charpin attacco supportato da scarino e sinatra l'attaccante 25 anni si è mosso bene anche se deve ancora scrollarsi di dosso un po di ruggine profondo conoscitore del calcio ai limiti del professionismo marco moretti presenta una merina coperta e ben messa in tutte le zone del campo 4 5 1 che trova la sua forza in zona mediana con il trio mauri sisti pollegioni unica punta de santis che sostituisce d'angelo mentre stazzi ancora alle prese con i postumi dell'intervento al menisco a sinistra ma in posizione più arretrata rispetto al passato opera valeriani dirompente decisivo nel 2 a 0 finale la difficoltà dei muscoli nel rodar si propone un primo quarto d'ora di blando studio interrotto da un sussulto dini punizione della tre quarti e sinatra vistosi scavalcato prova a sorprendere ciucco non l'arbitro con una mano galeotta ammonizione sacrosanta la prima del match col trascorrere dei minuti e di una pioggia che non dà tregua e la merina a prendere decisamente in mano le redini dell'incontro tra il 22esimo e il 27esimo diventa protagonista capitanzisti il graduato bianco azzurro dopo una possibile scorrettezza subita dai politi prova a sfruttare la regola del vantaggio ma il suo tiro risulta sballato poco dopo ancora il 31enne centrocampista rendersi pericoloso in area avversa sponda aerea del roccioso de santi sessisti da pochi passi deposita la sfera sull'esterno della rete al 33esimo con merito la merina passa mauri il carburante arretrato del motore amerino calibra un lancio perfetto per valeriani progressione che lascia sul posto cochi e palla filtrante in mezzo dal fondo per de santis su cui si avventa maldestramenti in spaccata dionisi per il più classico degli autogol tanta sfortuna per il giovane difensore al rientro dopo più di un mese ma da apprezzare la devastante incursione di valeriani uno dei gioielli della categoria la prima frazione si chiude con una conclusione dalla distanza di sisti ma placidi non si lascia sorprendere è una squadra diversa il federico mosconi al rientro dagli spogliatoi sarà la strigliata di danilo porcario la pioggia che smette di flagellare atleti e tifosi fatto sta che il rosso blu partono davvero forte dopo due minuti cominciano a stuzzicare ciucco con una conclusione di troili fuori ciarpi stanchissimo dentro picciolini con tre under in campo il federico mosconi continua a costruire ma con poca incisività spettacolare triangolazione bonino sinatra picciolini con quest'ultimo anticipato alla grande dall'intervento di fredduzzi al 26esimo angolo di scarino uscita di ciucco resa difficile dal pallone vicido e cochi non riesce nella ribattuta vincente la spinta rosso blu si va pian piano affievolendo e nulla serve l'ingresso di un altro attaccante croccolino al posto di dini chissà le bordate mancine del capitano avrebbero anche potuto far comodo negli ultimi dieci minuti in realtà è una cinica merina a colpire nel finale passati ad una inconsueta difesa 3 i locali lasciano spazi invitanti dove si infila spesso e volentieri daniele pollegioni in netta crescita dopo un periodo difficile prima la progressione del difensore di fascia quadraccia mette i brividi a placidi ma all'estremo casalingo è bravo a chiudere in uscita poi è la volta del federico mosconi pericoloso con una punizione di troili deviata verso la propria porta da mauri sull'ostacolo addirittura di placidi piazzato ciucco occasionissimo al novantesimo per valeriani spostato nel ruolo di prima punta per l'uscita di desantis imbeccato da pollegioni ma il tiro del numero 11 risulta debole centrale al secondo di recupero il raddoppio e ancora pollegioni ultimo faro del gioco bianco azzurro a pescare valeriani e questa volta il 2 a 0 è cosa fatta quarto gol in campionato e gara da incorniciare per il 29enne talento di moretti seconda vittoria consecutiva per una merina che torna a sognare alte vette periodo negativo quello rosso blu rallegrato però dalla convocazione dei diciottenni cochi e desantis nella nazionale under dilettanti di azeglio vicini buona la prova della terna arbitrale guidata dal signor castellani di foligno